benvenuti ragazzi in questo nuovo canale triple lui è federico saluta brutto deficiente di ciao nella realtà lui è matteo invece chiamato e soprannominato modern e io invece sono matteo e sono e ho preso la skin di aerobrine ok va bene allora ragazzi abbiamo creato l'uomo ci ho sponato qua abbiamo messo la cassa bonus guardiamo quando c'è dentro la nostra cassa bonus oh la la allora aspetta le prendo io e ce ne dividiamo allora rimetti tutto dentro la cassa oh è difficile usare questa posizione dello schermo ma vabbè a capirà che mi fa fastidio io voglio usare allora rimettilo ecco il cazzo è bravo fa una mappa però io c'ho una mappa una mela sedici cittadiera tre legno di giugno ok adesso ne metto tre qua prendiamo una tracca dai veloce ne metto tre qua mio per chi le vuole prendere e altri tre qua mio ma non roba che ma prendevo può essere utile si lo so intanto prendi si tre trochi troncone di merda ti posso mettere le torce nel culo vedi prendiamo le torce ok boh e chi vuole un'ascia io allora voi allora io sono più verde chi va a prendere il legno io io guarda io sono già legno qua vedi dai vabbè dai tu vai a prendere il legno chi prende l'ascia va a prendere il legno ok ok model va a prendere il legno no io vado a prendere il legno non sono giocatore io e federico pensiamo già dove fare un rifugio c'è cacao allora dai fendi andiamo nel deserto vicino ai non mi ricordo minchia ok andiamo nel deserto da farlo che cazzo che vuole aspettatelo proprio nel legno io tanto vi seguo perchè sennò mi paremmo sono un deficiente e io ho fatto un po' quindi ragazzi cosa fanno sul primo video ma cosa sono albero cosa fanno sul primo video ripeto io sono model cioè model model teo cioè io sono model cioè model teo e chi dedico cioè hai detto fuori il furetto ok abbiamo trovato una specie di colline ma sto volando ma che cazzo è sta roba sembra vola ok proviamo a crearla qua ci va fede qui eh ci va c'è il legno ho preso anche ciu 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 cosa c'è lì cerchiamo c'è il posto oh bella cos'è qua sul l'acqua ho trovato la canna da zucchero signori mi sono spianti cosa hai trovato? una canna da zucchero ci fu prima di cani da zucchero ehm ma che cazzo dovremmo fare un vlog per dire con me che abbiamo cominciato perchè abbiamo di farlo per il cazzo poi frappi per questo aiutino il progetto il progetto dai allora legno nooo posso fare una casa sul labbro ok facciamo non troppiamo un po' qualche a casa tutta pianeggiamo io tanto vado prendo un po' di legno vai prendere il legno finchè lascia figura prendi legno finchè lascia figura finchè lascia figura finchè lascia figura non larga smalare allora mattia sta andando a prendere siiii ho trovato anche il cacao però vedo che come cazzo ci arrivo ci arrivo mica sto sono bryan bryan sono bryan bryan allora mattia sta andando a prendersi il cacao mentre io e furetto sto prendendo il furetto anche quindi se sentite il furetto è sufficiente qua nooo sto prendendo di fame così mi vado ok adesso qua creeremo la nostra casetta appena maven torna con si se mi fate un attimo mangiare la mia allora io intanto prima che c'è io intanto io l'ho già fatto la crafting io l'ho già fatto la crafting delle tavole e con queste tavole ci creiamo la crafting dipendendo di tutto blu ci ho fatto il uguale una crafting più non guasta a nessuno ok io guardo un po' il mondo aspettiamo allora in casa arrivando rotti ti dico vai a esplorare vai fede vai a esplorare vai a esplorare maden maden deve far veloce per io ho trovato solo quattordici di legno mi stessi per farlo già c'è una mira c'è una piuma anche un po' un po' un po' ci facciamo già che culo non è che ragionato l'acqua l'ho ucciso madre ma cosa madonna che ho trovato una piscina un po' d'acqua dai muoviti che sta venendo serio fino a far casa facciamola qua dentro ah si è morti che cazzo è quello di sopra quella montagna vedi vedi cosa vedete un cattuzzo matte c'è la legna morti ok ok arrivo c'ho 24 di legna ok adesso col crafting fatti le assi fatti le assi madre come hai fatto prendo quel po' si 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 ok ci siamo creati le nostre tavole allora mi piace solo un po' dai matte fai veloce portami le tavole dove siete tutti Dani vieni andiamo al foretto su sto saltando mi vedete si uh che bello mi manca una dita massaggio per i gas che culo dai allora aspetta ma dove vai diciamola qui 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 allora vai datemi che cominciamo già a costruire cosa ti vuoi dare il tutto legno e assi di legno che avete io costruisco voi intanto paratemi il culo da dagli zombie io ti vomito tosto c'è un maialino maialino ecco prendo un po' di carne prendo già un po' di carne Federico vai vabbè 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 ti sto vomitando dietro ti sto vomitando qualcosa di ti sto vomitando una sirena io sono una bestia ma potete vabbè troverlo così insieme ah c'è ancora 19 beh aspetta che c'è ancora 19 che stordi che uovi ok aspetta c'è ancora una basta c'è una bicchiera non è frega niente ti entro allora intanto questo mi sa questo riesco già a casa ogni tanto andate a cercare io vado a picchiare la manina io sto morendo di fame mi dai una mera no io ho pollo crudo e me lo tengo per me io voglio una mera per mettere il culo la mera e la faccio uscire dalla buca a caccia in cuore dai che sono già dei rani andò acqua dietro dai gelato su poi ci pupano fuori da youtube per quel po' vado ad ammazzare il rani io vado a ammazzare il zombie no qualcuno va a cercare da mangiare decidete voi aiutami chi sabe da mangiare siamo ammazzati ma lui c'è tre mene potrebbe la distribuire lui c'è uno zombie tre mene però io quello so c'è uno a me non ho io calato c'è un enderman beh via andiamo proprio rimane in pelle non guarda va bene basta che non lo guardate ragazzi io ce l'uso al culo speriamo che schifo domani andremo a giocare della lana no si oh cazzo oh cazzo oh cazzo oh cazzo oh cazzo mi stava arrivando da dietro da dietro sto per morire che palle sei già per morire guarda in mezzo non ho cibo non ho cibo non ho cibo non ho cibo mamma mia io ho trovato la carne boh noi ci sarebbe a facciare dammi la carne ma non ho cibo io ho cibo io ho cibo io ho cibo chi cazzo vuoi il zombie dai ti piccola carne eh eh si ti scoperto non basta c'è un ragnetto che si fa a bagnetti dai hai fatto un po' un vento un pazzo di casa un pazzo di casa un pazzo di casa un pazzo di casa Fede ti dà la carne vieni dai dai non dormi una volta perché se non muoio ho un cuore in mezzo ho un cuore in mezzo dai vieni dai davvero per il cazzo vieni ah la minchia che generoso che sei Anna reglietto non mi capisco non basta non basta con le energie ma stu qua salta stu qua salta eh non è biologico che salta no? io cazzo sto morendo sto morendo miorgendo IMTA ma senti sei pazzo oh ma che palle cazzo lo siete ferendo oh cazzo mia dai entrati dietro in casa io sono quando l'ho fatta io accerto infatti io devo scampare dal ragno ah ruoviti non hai detto ledno lo so solo vedendo che cosa horrifying io non riesco se non ho preso ma si ho un ragnetto di merda su oh abbiamo preso anche adesso in casa dai che ce l'entrame qua fuori che in te me mi vuoi prendere una pizza uoviti te che brutta vabbè è piccolore aia sto per morire ma perchè scappi te io ho paura e vai vieni in casa le piccine ci ho letto mi state chiudendo un po e lo so devo fare entrare nei mostri ti apro io ok ma sono io ci sono ti sento fatto fuori entra entra anche io ho la tavola da casa vuoi vedere dove sono ok ma cosa fai con sta sangue di merda lui deve chiudere i modi assuri sto per morire ma togli sto cactus c'ho un legno vedete che voglio il legno oh ma che pare mi sto volendo rifare posso mettere la piuma ma voi c'ho la carne di marcia non so io ho un cuore questo per morire mi fa ah federico sta per morire dov'è oppure vuoi semigino no pigliati una una mela oh c'è anche pasta due ricorda sedici di terra semi di cacao basta basta so sopravviderò grande pure boh sta riprenditi no io no gli sto marietta no invece vuoi pulire così tutto a posto siamo già 10 a quasi 11 minuti e niente ragazzi e niente e niente e niente e niente e niente e niente in sessuale questo è proprio giusto primo episodio per far vedere per conoscerci e per far vedere come ci hanno spawnato per farci vedere il mondo in cui ci hanno spawnato questo è il nostro primo episodio corri corri apritemi apritemi ma per caso è uscito ma che ti sei tuffato fuori? stupido picchia nemmeno oh lo faccio eh dai picchialo ragazzi vediamo c'è uno scheletro chiudi che cazzo fai c'è uno scheletro qua fuori c'è uno scheletro qua fuori che ci sta cecchinando ragazzi guardatelo qua che brutto mamma mia che brutto sto scheletro che brutto che bello signor Federico ci lancio la prima bisognava degli assi di legno chi mi dà degli assi di legno del legno? chi ha del legno dell'assi di legno? merda merda faccio la cacca mi dà il legno dell'assi di legno non ce l'ha nessuno boh ragazzi noi finiamo qua la notte e poi ci vediamo il prossimo episodio che sto già per raggiungere i quindici minuti di video mica hai fatto cazzo sto già per raggiungere i quindici minuti di video io picchio le enderman vieni enderman vieni enderman vieni enderman vieni enderman in mezzo in mezzo dalla piesta ahhh basta e che mi raccomando col cazzo che vi faccio? no 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 col cazzo il fatto che dai non lo so picchiano vieni ah in caso in casa in casa in casa vieni muori ma che brutto che brutto mamma mia dove andarlo? dove andarlo? dica vieni la vita che polvo? ma perchè? si l'ho ucciso no? però ragazzi siamo fuori dai che forse uccidiamo un enderman quello è il sole entra in casa entra in casa entra in casa ma come te? ma ti ha fatto comunque il re? ma non ci blocchiamo qua oddio ok si è un bastardo non ti ho toccato si è un bastardo no io ho toccato la roba dove siete? porca troia siamo dentro da uh renderman dove? io ho solo la tua piuma vai a far culo fede vai a far culo non l'ho mica fatto apposta eccola qua renderman ragazzi prendimi la che c'è la mappa e tutto ma c'è la mappa e anche la piuma che hai visto la mia la mia di mappa ce ne sono due una è la tua ma te c'è l'endermela fuori picchiano ok c'ho lo zombie facciamo rissa ti scavo sotto te no scappa 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 allora vi dico io dove l'endermela perchè sono il più sacrificabile c'ho una marecia ehi freccia è troppo te la vicina ti endermen di merda che fa? sta arrivando il giorno che si scappa dai che non devo uccidere si ragazzi è entrato in casa vai ho ucciso ucciso uno schede vai 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 però non mi dovete aprire se ci ha messo una spada quest'ombre l'avrei ucciso c'ho una freccia si è morto è morto la vada a prendere la vada a prendere ho ucciso un enderman a mani nude e non mi ha dato manco il cazzo volevano la perla di ender già per fare gli eventuali occhi di quindi niente niente ragazzi andremo ancora a cercare del legno che ci sa vedere non preoccupate alla casa la carne di guasso me l'ha dato a me no ok oh raga ho trovato oh ragazzi sto per raggiungere i 15 minuti di video un saluto ci vediamo nel prossimo video ciao ciao dove andremo a caccia di legna e a caccia di lana per costruirci finalmente ciao dateo ciao ciao ciao